Mi sono messo lì sopra, si può usare anche lo smartphone oppure il controller in questo modo Ah, devo usare il tabellino della... Madonna la scomodità Ok Così andiamo a selezionare le impostazioni, non possiamo farlo adesso Grazie mille ad Anto Caffarelli per la sub al canale, grazie mille Anto Grazie di cuore per questo sesto mese di sub Carta del cavo qua, ok Vi alzo anche un pochino il volume, non so se poi come sarà in game, ma al momento si sente molto basso Grazie Zanna, grazie mille anche a Zanna96 per il settimo mese, grazie mille Zanna, grazie mille Pronti, pronti Storia interattiva, ci siamo, le tue scelte costituiscono una delle tante prospettive Non c'è un singolo percorso che contenga tutte le risposte, quindi è anche rigiocabile Don't worry, don't worry Poi vediamo se mettere i sottotitoli, se si può... O se non è necessario Allora io con questo Ah, devo fare... Madonna Ecco perché ti fa giocare anche con Lo smartphone eventualmente Cioè devo usare il Pirulino qua come Trackpad Grazie mille a Giuseppe O'Pastora Per il decimo mese di sub, grazie mille Giuseppe Aspetta che qua dobbiamo fare noi, eh Ah, quella luce ti dice quello che devi fare Molto bene Aspetta Aspetta Dai bimba appiccia Trascina per esplorare Aspetta Con quale zoomata Puntino sarebbe schizzata via però Con quale velocità Ci spanno Insomma la signora qua Bimba Cioè sta a fare i fumi Ha messo la music Non so se sarà coperta da copyright Va bene Ah è questa Erika Non dovresti giocarci Siete tutti dei malati comunque Ok Sei pronta? Ma se io premo start Ok, italiano, italiano Vi metto i sottotitoli ragazzi Per Ah ma devo usare sempre sto pirulino Madonna però, eh Ok Lettura facilitata Tipo per In che senso? Magari è un po' più grande la scritta O è Mamma e io ci incontrammo Tanti anni fa In un posto chiamato Delphi House Dimmi tu come c'è Era un'infermiera E io un dottore Che fa Che appottiamo la foto Di notte Ci raccontavamo storie Non so io che storie si raccontavano Lei mi parlava del futuro Cose meravigliose Cose che solo lei Oddio Un po' psicopatica Io le parlavo del passato Di una grande sacerdotessa Col marchio di una farfalla Grande interattività tra i due Vedere il futuro Tac E così è nata lei Lei dicevo che era magica Come la sacerdotessa Credo che anche tu sia magica Ma dovrai provarla Ma possiamo pure ribaltare Il ciuffo del padre C'è una foto Quella che preferisci Dimostrare che sei magico Allora dobbiamo scegliere Una foto Vabbè scegliamo questa Della mamma Che faceva finta Di parlare del futuro Intanto Giocava col dottore Che devo fare qua Ah devo Ah sono tipo le foto live Dell'iPhone Ora Chiudi gli occhi E concentrati Adesso evoca il potere Dell'antica sacerdotessa Aspetta Il potere della sacerdotessa Stavo che esce il fumo viola Dalle orecchie Vieni a vedere La mia collezione Di sacerdotesse Delle favore Cerca di indovinare Dove è la tua preferita Allora aspetta Aspetta Ha fatto carta vince E carta perde Questo Questo ci vuole fregare Qua Dove sta la mamma Incinta Là No E niente L'abbiamo presa single Che cazzo vuoi Che stiamo a fare Vaga Sei ancora magica Sì Infatti Sarà sempre con te Ricordatelo Anche se non è qui È sempre parte di te Ah ci ha dato fuoco No è una farfata Eh lo so Con quale focus? Se potessi guardare dal fuoco E vedere il futuro Cosa credi che vedresti? Qualcuno scottato Per cazzo Aspetta Apriamo la porta avanti Tac Non accetta Nel camino Ahia Hai visto il futuro Signore Con quale divano Tra l'altro Che lì devo toccare i capezzoli? C'erano le ditine E c'erano i piripini Così Signori dovrebbe essere Un titolo serio Però è un trailer serio Fa dei seri Che devo fare qualcosa Questa signora In nero Fai dei seri eh Madonna le incrostazioni Dove fa Pirupirò sullo specchio Aspetta E uscì Il segno E niente È rimasta con la stessa Espressività Sin da piccola Comunque Affronta Giustifica Rassicura Lascia perdere Ma chi o lei Lei o qualcun altro La lascia proprio perdere No La rassicura La rassicuro Aspetta che qua La precisione Rassicuriamo Trascina per esplorare Che li esploro Non è stata colpa tua Ah Ok C'è la vena artistica Vai Sgrilletta Il pirulino I problemi All'edito No Aspetta Sta a vomitar Non si vede Questi suoi vicini Oh ma va a vomitar Sotto casa tua Ah Stava sotto casa sua Molto bene Chiudi o togli il lucchetto Guarda io Perché dovresti togliere il lucchetto? Magari usciamo E gli chiediamo come sta Ma io sono curioso Ehi biondata T'ha a posto? Sta a vomitar l'anima Aiuta La va Com'è? Hai bisogno Di aiuto Vabbè Non ci prova Che ne sai Un vicino Sta a vomitar Sull'uscio Aspetta Allora Chiud Chiud La Chiud La Chiud Allora Questo primo Io lo scarterei Un po' inquietante Signora Insomma Se quello era Non lo so Non è uscito Benissimo Come il padre La Ah questa era Quello che Ma l'avevano messa a focus La signora E questo è quanto Disegno Vai vai Dai un'altra Specia d'acqua Oddio Se disegniamo noi Dai che c'è Guarda che io sono un artista Sacc Guarda qua Guarda come ti faccio il doppio segno Oh Guarda là Un attimo è stato Che disastro Ma questo è quello che ci aveva in petto il padre Ma che ne sai tu Ci ha vomitato sul tappeto Fragile occhio Questi siamo noi Aspetta Apriva ZAC ZAC Che fa Spippola Fa l'unboxing C'è una mano Della signora T'hanno spedito una mano Quei non fate questi scherzi Eh a noi Eh scusa Lì sta Lì sta dove fa meglio signor Eh Mi fanno lì Signorina Mason Sono il sergente Blake Ho l'incarico di seguire il caso Posso vederlo Prometto di ridargli Consegna O strappa No se lo strappiamo È Consegnalo va Tanto questo si vede che è un salame È un disegno che fa spesso No la mattina è dopo pranzo È greco Vero L'epsilon delfica Chiediamo Trovata su suo padre Eh chiedi Chiedi Oppela Aspetta che ci sfugge il dito E lei come lo sa Ho letto il dossier di suo padre Ho dovuto La mano apparteneva a un uomo chiamato Akal Johar Lavorava alla Delphi House Si chiama Akal Johar Scusi mi dica il collegamento al caso Riguarda mio padre Quello di suo padre è un caso risolto Siamo convinti che ci sia una connessione Sapeva che era uno dei fondatori della Delphi House Con quest'uomo Lucian Flowers Anche lui potrebbe essere un obiettivo Senta Al momento stiamo sorvegliando la Delphi House Programma di protezione Condurrò le indagini da lì Credo che per ora sarebbe Il posto più sicuro anche per lei Io sto bene a casa mia Buono La mano ci hanno mandato Dai Sacchete E niente Ce l'aveva chiesto C'è il fanalino rotto Marescia Scusa Sta facendo rispetto ad Eric C'è il fanalino rotto Il classico Fanalino rotto Si si sono arrivati tanti pacchi Frank Grazie Poi facciamo un altro unboxing Spaghetto pittura Io ho Ah si? No nel senso Ho sgrillettato un pochino Madonna era inquietante Però da grande Però insomma Qua c'era andata Con il bambu Quindi vediamo Se gli ispirerà dei ricordi C'è un campanello Sì Tocca Drin Graio Dringete 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 Basta Oh ma che è sta violenza? Posso sgrillettare di nuovo? Saranno fuori a fumare Eh allora Sgrillettare Aspetti Vado a vedere Eh va a vedere va Io posso continuare A fare Drin Drin E mia si è piantata Erika Qua qua Do cazzo vai Erika Vabbè guarda là Quello è la caricatura Del signor Flower E il tuo padre Guarda questa gigione Il signor Flower C'è sopra però no? Eh vabbè ma io sto a vedere tutte le foto Ma io posso trascinare E andare a fare cose Grazie mille Grazie mille all'olino sportiveggiante Per il decimo mese di sub Che c'è sta una festa? E se divertono queste case Rispondi rispondi posso? Aspetta No no vabbè dalla festa O rispondiamo Va bene dalla festa Vai va Il telefono può aspettare Scusa c'erano quelli in maschera Pepe Pepe stava a fare il trenino Che fatta Greg Grazie mille ad Iron Man Per la sub Per il quarto mese Grazie mille Iron Man VR Magari arriva nel Tino Rossi 46 Vediamo le maschere C'è una persona che mi accompagna da anni E mi hanno sempre stappato grossi sorrisi Come vedete meno belli Un abbraccio a te la signora Complimenti per la panza Grazie mille Grazie mille Devo scegliere? Guarda io scelgo Questo qui Questo qui Cigarba Insomma a broca Vare brutto C'è sta una maschera Hai scelto il coniglio? Ho scelto il coniglio sì E l'altro era cornuto Quell'altro era un po' così Contro la sbama Cosa stai facendo? Metti raggiù Non è tua Ah beh che significa? Non sto qua Non ho niente Nessun appunto su di te Eh già il tatuaggio eh Fermi tutti Che perdita di tempo Vedo che ha trovato qualcuno Sarei dovuto restare qui Guarda in realtà ho visto Ragazze mascherate Che stanno a fare festino Ragazze Indossavano delle maschere E loro Già Controllerò Forse è una specie di terapia Se ha terapia del rincoglione Mello Ma chi sei Sergente Blake Mi occupo delle indagini Devo incontrare la dottoressa Ballard La prego di scusarci Siamo tutti un po' nervosi Sergente Blake Rosa Ballard Suppongo che conosca già L'ispettore capo Signore lei è Erika Mason Mi spiace incontrarla In circostanze tanto difficili Cosa possiamo fare Per farla sentire a suo agio Anche a me Va tutto bene Mi dispiace anche a me Andiamo Ti faccio strada Ma siamo sicuri di sta sto po' Secondo me era più sicura casa nostra Tanto una mano che ce la consegna Immagino che non ti ricorderai di me Eh no Io lavoravo con tuo padre Mi occupavo di te Quando eri piccola Correvi in cantina Cercando i fantasmi Molto bene Eravamo partiti già col botto Tuo padre mi ha insegnato tutto quello che so E tua madre Era incredibile Un'infermiera brillante Così Intelligente E divertente Comunque Questa è la tua Forse la riconoscerai Ma se non mi ricordo Che cazzo eri tu Il signor Steinbeck Il portiere di notte E di sotto Se hai bisogno di qualcosa Un'altra espressione Un'altra espressione C'è la stessa Eh vabbè un attimo Questa è sul cuore Vedi qua Si ricorda Questa è un'altra espressione Vai mettiamo il suono Stangelo Vai Vai Tac Aspetta E mira E una E due E Tac Scegliamo? Ma sceglie lei? Non mi posso fermare Fino a quando non trovo E' questo, è questo Aspetta che caccio il vinile Si ricorda music? Che c'è scritto, che c'è scritto Eh, riga Quanta polvere Bisogna qualcosa Ah, proprio aggressiva Aspetta, prende il regalo dello zio Spacchetta Spacchetta l'aveva fatto di merda Madonna, sei inquietato Sono potate nero, zio, ste cose Terribile C'ha pure le sopracciglia forte Vabbè, dopo il capello del padre Tutto può essere Si, lo vedo, il braccio che fa Ah, c'è la farfalla pure lei, grazie E' proprio come te Si, oddio Pure l'espressione, bene o male, è quella Non lo sa, Babbo è ancora più simpatico Ciao Ah, doc' pass Ah, doc' pass però due centimetri di polvere ci stanno cioè affittate ste stanze ma un minimo ci andiamo a vedere lo spec no ho sbagliato ma andiamo a vedere magari no 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 sul tappeto è pulito pulito? questa è psicopatica aspetta vabbè passiamo di lato ma facci il giro? ma dimmi tu è affidabilissima come mica è tutto pieno di polvere guarda chiedi lì una sigaretta eh vaffanculo allora eh ma tu ti stai faccio del mio meglio che cosa suoni? questa è aria per delfi di da digestione grazie mille Andrea grazie per questi otto mesi è facile solo quattro note grazie mille Andrea no non l'ho capito aspetta come era papà no mi fa lei faccio così e via io faccio il resto soddisfazione no non l'ho capito aspetta e niente madonna però mi sono nato un po' di aeroporto eh guarda eh Gianni merda eh 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 ecco c'è di nuovo portata l'aspirapolvere no 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 niente pulizie niente pulizie senza supervisione eh niente panico don't worry aspira opposed come signora no 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 non si provate oh no no lasciami lasciami venite la ferra scusa e non c'è avete sbagliata l'altra che era incoglionita scusa è stata la signora delle pulizie che sta sbroccata nel frattempo l'altra è dissanguata avanti tutto è bene ciò che finisce bene signori eh major però risulti abbonato eh dovrebbe vedi se riesce a riconoscere questo signor flower sei uguale a tua madre ah ti suguole al dipinto insomma l'ultima volta che ti ho visto arriva via malapena alla scrivania sono lucian flowers ho fondato questo posto insieme a tuo padre guarda ho visto il ritratto sul muro con che inquietudine questo ufficio guarda dramma in che senso c'è molta tensione si è un posto da merda grazie Anarchy Wars grazie mille per questi 15 mesi totali di sub secondo consecutivo 15esimo è totale grazie di cuore Anarchy Wars spero non ti dispiace ma ti ho portato una cosa era di tuo padre tua madre glielo regalò il giorno del matrimonio l'ho conservato molto bravo scusatemi stavo parlando col medico legale Erika è molto probabile che chiunque abbia ucciso suo padre abbia ucciso il signor Johar potrebbero esserci altre vittime che non conosciamo potrebbero cercare di uccidere ancora vabbè da me che cazzo scusa siamo preoccupati non ce ne frego un cazzo in realtà posso essere d'aiuto in qualche modo onestamente non abbiamo molto in mano a parte la mano vabbè sto detective però non abbiamo molto in mano scusa dai guarda io sono disponibile che te devo dire vediamo grazie mille Forni grazie mille per la resub per il quinto mese grazie a Forni eh sì è come una terapia fu sviluppata da tuo padre e potrebbe aiutarti con i tuoi incubi è del tutto indolore oddio perfettamente sicuro guarda io esiterei un pochino ma questo è bello quelli ti fanno scipazzolo io non lo so Erika la prego ci sono troppe somiglianze col caso di suo padre perché sia una coincidenza se otteniamo una descrizione metteremo fine a tutto ma noi quella abbiamo visto buon uomo qua la gente è una più ringoglionita dell'altra lascia stare poi costoso il soggetto eh guarda che questa conciata il gioco finisce lei va a casa e tutto tutto questo e niente c'è la volpe e una psicopatica andiamo dalla psicopatica che sembra più interessante che cosa la volpe che cazzo le fai no è quella che sputa sangue ok sgrillettiamo che diamo fuoco alla signora tua madre mi disse che questo posto era tutta la sua vita che cazzo devo fare no è che non basta tablettino si innamorò qui ti partorì qui e infine morì qui tutto a posto quindi tutto a qua abbiamo fatto tutto in un luogo solo mi dispiace tanto è complicato sti zippo avrei dovuto esserci per te avrei dovuto fare di più guarda sei una merda lo comprendiamo? vabbè non siamo parenti non era sua responsabilità esatto tuo padre era il mio migliore amico tu sei la sua unica sì ma stai vestito pure di viola con la cosa a fiori insomma meglio non averci a che fare andiamo voglio mostrarti una cosa ti serviranno queste che devo fare pure il giardinaggio biondo qua chi pulisce chi fa il giardinaggio insomma tu non fai un cazzo niente devo fare zacche te fai zacche tu non riesci a chiudere eh ma questo guarda là con che finezza tomba della mamma gli diamo pure una pulita sì ma qua continua la polvere vuol uomo perché tu padre ha piantato gli oleandri in memoria di tua madre erano i suoi preferiti ci hanno sempre portato fortuna si vede mi spiace a volte le ragazze hanno giorni difficili ma alcune di noi preferiscono tenere tutto dentro hannah non credevo così questa è sì ho vista pianista sull'oceano di sangue è un pochino sì va bene oppure potresti spassartela contabile in realtà stanno per servire il pranzo ah gnamete gnamete dai attenzione prende appunti allora non volevo far né i profumi né da toby né andiamo dalla rincoglioni dalla sopra vai vai aiee portiamo bene zacchete guarda come tagliamo la torta come il dolce no cazzo mangi manda rin molto carina questa cosa veramente brava ma il simbolo che stava sul petto di nostro padre è da morto o sbaglio è una farfalla ah ce l'ho pure sul braccio a fuoco è bella però eh sì guarda la finezza però io non hai fame sì ma voglio la torta non il mandarino se questi passano dalla frutta al mandare se non mangi sprechi il cibo e abbiamo del lavoro da fare andammete mangiava torta e niente non si mangia spruzziamo hai saltato un punto qui meglio ma donna stavo fai profumi era meglio senti queste cinghiette a cosa servono le cinghie cioè per sapere da voi stessi molto brava hai capito al volo grazie mille a matte cecchi per il terzo mese di sub grazie matte grazie mille per questo terzo mese perché abbiamo scelto la più psicopatica tra tutte comunque blocca la porta attenzione quasi fa cose illegali aspetta questa ne sa questa ne sa guarda io sbloccare la porta perché va bene tutto però e niente ci ho sgamato eh scusa non sono buono qui non ci possono sentire ma stanno arrivano arrivano sempre chi arriva giusto per curiosità loro chi chi sta arrivando ci sono dentro tutti se vedessi i fiori capiresti eh li ho visti i fiori se non faccio la brava gli faranno male non hai il permesso di chiudere la porta sì scusa la scopa è caduta ma l'ho sistemata Erika mi ha aiutata guarda sotto il cuscino lei vuole pulire la sua distanza eh almeno una cosa la fa e senti com'è che stai qua oddio non è che abbia dei dubbi sul fatto che tu devi stare qua però per sapere per curiosità che cosa fai? a volte vengono di notte credono che dorma ma io lo so guarda sotto il cuscino vedrai vediamo e controlla sto cuscino sono curioso c'è il disegno vediamo il disegno di vediamo c'è la volpe l'ho vista pure io il coniglio no queste sono le maschere e la farfalla siamo noi di nuovo tac tac e di nuovo tac 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 vabbè questi sono l'ho capito noi siamo la farfalla e quelli mi piacciono i conigli si eh sono i miei preferiti soprattutto al forno nel senso la cacciatora la cacciatora buona buona saluta saluta questa è quella che si dissangua o quella che fruta cristo mi hai fatto morire di paura sta a fare l'artinista per riscaldare un po' l'ambiente profumo insomma guarda tienilo tu grazie no ti ringrazio non mi serve ti trovi in una camera da letto improvvisata in una clinica psichiatrica fidel questo ti aiuterà secondo me questa non ce la racconta giusta guarda insisto tienitelo sto suppostore questo non ce la racconta giusta stava mastrugliallazzo dietro vabbè ha rotto il cazzo poi sempre buttarlo quando me ne vado ecco ho butto ha messo pure a suppostone buona notte grazie mille a dj3cani per il settimo mese di sub lo sto giocando pure io ormai mio figlio mi chiede sempre quando c'è una tua live ti adora grazie mille grazie mille dj3cani attivalo buttalo signore io lo butto madonna mi attiva ma che attivalo ma questo su tutte come se butta leva sto cazzo di cosa fangulo i fiori questi ci drogano di notte eh questi ti drogano così rimani là in pianta stabile che ne sai vedi poi si risogna la notte pensa se la accendevamo e quindi mi sa che ci stiamo iniziando a rincoglioni pure noi che ci stiamo iniziando ok che ci stiamo iniziando stiamo entrando nella parte ma poi perché per proteggere cioè proprio qua non potevamo stare in albergo apriamo c'è un unboxing tac guarda come te lo sfiocco oh non ci sputa il sangue tu madonna però ste bambole che cazzo è orrenda c'ha pure ragione bricolosa guarda come ci tende la mano quella che non c'ha il tipo però va bene e calla e niente eh vabbè signor però che cazzo è? t'ha posto? stai bene? eh no che non sta bene eh niente signora qua sono tutti pazzi ma che cazzo è? ma l'albergo non me lo potevate via eh niente è morta ma che è successo? eh niente ho fatto l'unboxing un unboxing finito male il titolo clickbait un unboxing finito male signora aspetta che lo struscio un attimo sto coso ah questo era quello il portinaio là il portiere di notte vabbè non ci siamo persi niente la scatola è stata spedita ieri ok vabbè almeno la spedizione è stata veloce oh consegna in un giorno signori guardi questa che vuoi di più dalla vita? altro che poste italiane è la casa di Karl Steinbeck il portiere di notte complimenti arredata minimale diciamo ma quello là dietro scusa è necessario? cazzo te guardi? è biondolo mi spacco il culo eh ancora là stai che mi sta a fissà? ci stiamo qua? sta perdendo la pazienza eh lo so e io la guardo un altro uomo niente abbiamo una squadra lì è scomparso senti ma per dire il simbolo perché aveva quel simbolo tatuato sul braccio? una volta era sull'insegna all'ingresso viene dal tempio di Apollo a Delphi in Grecia il loro motto era conosci te stesso tuo padre trovò che era adatto a noi dopo la sua morte togliemmo i simboli ma il tatuaggio di Karl è rimasto eh noi hanno tolto senti ma la pelle è sua per dire eh c'è un riscontro la pelle non è ufficiale ma è lo stesso tatuaggio eh beh che ne sai chi c'aveva e poi c'è questa era eh questo quella ti mandavamo bimbi eh quindi ci conosce forse era meglio quella da bimbi però va bene no in realtà è diverso un regalo da Lucy la pelle di Apollo un regalo grazie mille a Ciollanzia per la sub per il settimo mese grazie di cuore Ciollanzia grazie mille per questi sette mesi di sub erica passava tanto tempo qui non c'erano altri bambini cercavo sempre di farle avere dei dolci o dei giocattoli si eh era uno di quelli dovremo tornare a casa sua ma pure a casa mia controllare che non manchi nient'altro eh e potrà prendere dei vestiti qualunque cosa le serva si una casa pare che dovrà restare qui per un po' ma no ma perché cos'è giustificato tanto me trovano pure qua se mi hanno mandato le cose mi hanno mandato pure qua quindi stiamo a casa che è meglio va tutto bene e niente ci avete sfondato la casa bene bravi complimenti i vostri adesivi non sono serviti a niente mi dispiace ma possiamo prenderci un attimo la psicopatica che pulisce ce la portiamo a casa c'è da una mano lei si diverte aspetta prendiamo il diario che là ci abbiamo fatti i disegni nostri là c'è la foto della mamma incinta i disegni sui disegni eh ci hanno strappato qualcosa e niente se ne va guarda non stava bene la signora qua di fronte ha vomitato pure l'anima è morto ok resti dentro chiuda la porta eh polizia aprite la porta o sarò costretto a sfondarla eh sto per sfondare la porta in realtà no era pitturato però qualche zona sembra pitturata boh che ne so sono andate a casa qualcun altro magari oh segui che cazzo di noi frega vai a vedere vai come si fa segui dai che cazzo sta a fare dietro alla porta ok andiamo a controllare questa si è decomposta biondo ma che è appeso e i pedali dei fiori quelli della signora pazza che fa le cose che fa lo de parfum vedi pure questa fa le cose chimiche secondo me pure questa fa il profumo ma ne è la stessa perché effettivamente pure quella stava un po' maluccio allora apriamo la porta oddio quale è splashata stacchete eh questo è quanto ce l'ha trovato prima lei che il poliziotto si il poliziotto chissà che cazzo ma dov'è il poliziotto trascina per esplorare esplora aspetta prima la faccia vediamo chi è se è quello della preception aspetta però avete visto il petalo che sta là era quello che lei aveva tra le dita dei piedi si quello che sta appeso qua perché erano un po' più secchi quello quando si è svegliata ce l'aveva tra le dita dei piedi è stata lei eh vedi ce l'ha in bocca questa già già c'è stata qua questa è eh non guardi ormai ho messo le dita in bocca la caccia di fiori dalla traichea questa non me la racconta giusta sta erica mi piace Anna è divertente e dolore tac tac spero che migliori ma dovresti firmare il biglietto non si sa mai l'ultima non è migliorata era amica di Toby disegnava disegnava sempre anche se era molto strana la trovarono mentre cercava fantasmi in cantina credo che sia molto no però non va di lato scrivi Zorro ma che stai a fare Zorro oddio è uscito un pene però un doppio pene va bene eh firmo firmo così ti portano via e ti fanno vedere gli animali ma scusa la faccia di lei ma perché non scriveva di seguito scriveva sotto ma sono stata cattiva gli è piaciuta la firma la signora hanno rotto il tasto ecco come lo so vedi vieni aia è qua qualcuno ha aperto l'armadio gatta cicova secondo me non l'hanno visto aspetta che lo apro pure io tac a che varietà signora posso questo è mio però che sta a fa qua ah no non è vero ce l'ha ben male pensavo di averlo trovato pensavo ci avesse fottuto l'accendino sta abbastando aspetta controlla dovevo controllare ah questo ah è gatta cicova qua non puoi entrare non hai la chiave e che me la dà la chiave aspetta aspetta metti a fuoco metti a fuoco che esploriamo con il cazzo per esplorare zaccate 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 cucu e niente e perché aspetta che qua per mirare perché perché a loro non serve più ormai è consumata che è una candela pure noi eh sangue questo è un'altra è ciclica sta cosa piano piano era un fazzoletto gli serve non abbraccio signor eh forse pure lei sta andando verso se sta consuma pure lei stai piano piano per esempio per questo faccio vabbè questa è un'altra cosa è un senso dobbiamo solo rivedere alcune prove trovate qui è quasi tutto in laboratorio ma vorrei controllare il taglio di cose non vi ho fatto l'ispettore capo ci ha chiesto di farlo qui eh perché non lo facciamo alla stazione di polizia ne hai già passate abbastanza vogliamo che tu sia il più possibile a tuo agio ah meno male vi aspettavo entrate rispettore capo cosa ne pensa ci siamo vicini ma cosa ma è lei ma no no eh no 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 manca qualcosa ok che mi dice di questa l'abbiamo trovata nel suo appartamento nel suo mio o nel suo suo ma questa non c'era in realtà e chi è questa cioè questa dovrebbe essere nostra mamma questa chi è c'è qualcun altro i petali ah la psicopatica dietro suo nome è Mia Green non ci si perde allora aspetta ah c'è la psicopatica grazie mille Nielu grazie per il diciannomesimo mese grazie di cuore protettiva con lei a volte in modo aggressivo ma una paziente che cosa aveva lei era difficile a volte violenta la sua infanzia fu estremamente spiacevole ma l'amicizia di tuo padre le diede grande conforto sì eh ma n'è quella che abitava a fianco a noi la notte in cui tu madre mi ha gridato nel dispensario si procurò un overdose e morì eh però era uguale a quella che abitava di fronte a noi senti io in teoria guarda è impossibile è impossibile abbiamo chiesto al giudice di riesumare il corpo e non ce l'ho allora dovrà restare alla delfiaos vai a questa delfiaos oh questo è che ha il cornetto il cornetto c'abbè un cornetto capo del bombolone eh sei un coglione questa è Erika il gioco e questo ma come ga ha detto tenga non ga zack attenzione i sotterfuggi chiedi chiedi si subito devo andare c'è un intruso alla delfiaos attenzione vengo con lei vai vai noi parliamo col commissario capo non è sicuro accetto parlo col commissario ok oddio questo insomma non so se fidarmi stai bene sanguini aia aia e niente ci penso io guarda delfiaos già andiamo più è un postaccio il bagno è in fondo al corridoio non può sbagliare vado a darsi una ripulita e addirittura poi parliamo va bene biondo ripulita qua sa dissanguare ma non ripulita col fazzoletto con la mano che cazzo di schifo scusa col maglione chiudi no chiudi prima la finestra ma io ci stanno i spiffi ma c'è un maglione ah una volpe ste volpi però con quale texture la finestra tra l'altro questo che ne tazze è proprio che sa fare la donna è meglio che si viene a golf commissario è morto il commissario e niente non è che portiamo sfiga a noi poi con sta faccia questa è sempre così inquietudine chissà che ci dovrà dire il commissario tac e niente hanno tatuato pure il commissario a sangue però che dobbiamo fare commissario che mi dovevi che mi dovevi di che mi dovevi di guarda il cassetto con la violenza poi eh no qua c'è qualcosa sacchete ah se la faceva con la psicopatica ma la figlia che se la faceva dici ma forse l'età combacia che cazzo se la faceva cazzo tipo l'altro cazzo si sta a fare il piccadino malizioso allora vediamo aj addio ma che ne sai tu sti giovani l'amore non è età signora vabbè ho capito però apri il libro va madonna questo scrive un sacco di numeri guarda qua aspetta qua c'è un segno diverso dai numeri un sacco di numeri di telefono c'è il signore eh vedi questa è la gentina di un marpione vabbè comunque parteciò questo è un catenaccio pesante vabbè guarda dove vai eh vabbè ma allora aspetta ce la zoomiamo zorro ah può essere che era lei eh si senti ma tu non dovresti essere morta tipo tu sei morta eh effettivamente c'è pure ragione erano coinvolti tutti non ti farei mai del male eh guarda fai veramente schifo però sei pazza ha dato loro sua figlia il sangue del suo sangue quindi la porti là sono qui per proteggerti e ti rincoglioniscono va bene senti ma tu non stai manco o sei malato o sei pazza sta lontano da me tuo padre mi ha resa un mostro lui ha preso tua madre e l'ha rinciosa ha venduto l'arima al diavolo e lei era il prezzo c'è un altro mondo sotto Delphi House ah c'abbiamo la chiave però mo ci andiamo ti ho dato il medaglione era la chiave di tutto ma tu l'hai dato via ma quando non lo ricordo mo ce l'abbiamo però eh ce l'ho ed è proprio lì di fronte a te qua ci apriamo la porticina della psicopatica le serrature sono niente provane una e vedrai tu stessa va bene c'è una vecchia fattoria ia iao nel bosco tra qui e Delphi House ti aspetterò lì vabbè ho capito che cazzo ce l'ho ce l'ho ce l'ho vieni solo già mangiata vabbè già mangiata ho capito era per chiedere sarei dovuto restare non c'era nessuno qui solo una ragazza che è entrata nella farmacia mamma quale ragazza Toby Newman non è la prima volta dovevano aspettarsela non preoccuparti da posto signor ti sei mazza io e questi allora scusa stai bene abbiamo perso la signora ma ora inchiudiamo posso fare qualcosa no tutto a posto biondo vai vai tranquillità tu sei buono non sei buono comunque abbiamo capito che tu sto bene col tuo tip ci sei entrato in polizia cerca di dormire sarai al sicuro qui promesso ma che sicuro ma sto posto è una merda è che qui non mi sento sicura è tutto ok è tutto ok staccito una notte poi vediamo cerca di dormire è una parola qua è pieno di pazzi sicura che non abbia detto niente qualcosa che ci aiuti a trovarla ma che deve trovare vai con la bugia è morto ci ha detto che ci ha dato una cosa ma è morto quindi ce l'ha detta comunque se hai bisogno sono di sotto eh no signori ma dobbiamo andare alla stanza della della signora della polizia la gente sta morendo la gente sta morendo dovrei sapermi di più ok non dovrebbero morire questo potrebbe causare grossi guagli e il lavoro di una vita lo capisce e che cosa fa esattamente qui non sono affari suoi sembra che niente sia affari lei faccia il suo lavoro si occupi di Erika nel modo e come corretta nel modo corretto non le dirò altro bu bu eh questi no questi comunque è tutta magna magna qua eh questi ci guadagnano sopra grazie danno solo mandarine questi chissà quanto pagano di retta vai ormai lo scotch è andato quindi apri vabbè non è necessario sentirci tutto ci sorri sappiamo dove sta vai veloce metti il timbro non apriamo questa eh lo sto a fare confida confida ho trovato una chiave per il posto segreto non importa è morto mio padre è morto eh spiega che spieghiamo che cazzo lei aveva una pistola non potevo fare niente è morto eh questo l'ho capito è morto e io non so dove andare stai qua a posto faccio dei sensi qualsiasi cosa faccia mi prenderanno e mi faranno sanguinare noi abbiamo già iniziato e siamo arrivati dopo assicura tutto a posto non permetterò che ti prendano qualsiasi cosa stia succedendo la fermerò e se ti catturano don't worry mi sacrifico non ti lasceranno andare mai lascia fare tranquillo glielo impedirò te lo prometto vai chiudi mi raccomando fa la guardia brava insomma ci siamo scelte la più rincoglionita però alla fine ci sta aiutando aspetta che si grigliettina eh don't worry ci pensiamo noi eh questo mi sa che è l'obbitario guarda andiamo a controllare prima sta vetrata per vedere che cazzo fanno ti fa schiamare ah non è una vetrata è una porta siamo fottuti però ci avevano dato pure una che controlliamo questo il cadavere il cadavere no controlliamo questo aspetta c'è dello sfrigo lì in questo cosa è radioattivo va apri la sicurezza prima di tutto c'è un ghiaccio insanguinato non so se quello sia un qualcosa però controlla controlla pure chi è il morto eh niente signori si è fatta sgamare almeno chiude il coperchio brutta il coglione lì allora andiamo andiamo qua nel buio signori nel buio diciamo la taverna sta rega però mi pare una pazzera incoglionita comunque qualcosa ma dove l'abbiamo vista queste cose scusa no per sapere la facevano così vedi che l'accia di petali i fili dei fiori e la ci vuole una grande chiave e andiamo qua dobbiamo schiamare la situazione qua dobbiamo schiamare non me lo devi neanche chiedere vabbè là ci staranno i petali si si vai la porta andiamo a vedere qua dai no vabbè stava scherzata la chiave quella ha aperto così no apri la porta qua ci qua ci beccano mal qua ci apri sta cazzo di porta chi c'è sto cazzo ma se ne va niente sta scrilletta la porta così ti sgamano dai tutto bene tutto bene grazie ma che scappiamo scusa non andiamo a controllare c'è una lucina la secondo me questa è la serra però c'è una telecamera occhio saluta almeno no 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 non no 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 Grazie a tutti. Vai, apri il tendone. Questa era la nostra, se la sono fottuti. Vedi, l'hanno buttato tutti il problema. Vedi, l'hanno buttato tutti il problema. Tu mi hai detto di aprire la porta? Circi cavallo e il re. E' una farfalla. E che ha detto? Il cerno, il cerno, me lo sono perso. L'hai visto? Ci vuole la farfalla. Senza la farfalla non ve ne ha nessuna parte. Grazie mille, Filtom. Benvenuto tra i subscribers. Grazie di cuore per il supporto. Vabbè, ma fino a un certo punto, signor... Tutte queste confidenze. Eh, vabbè, ma fino a un certo punto. No. Lui non ti amava. E stava allevando Per prendere il posto di tua madre. E' questo che vuoi. O ti unirai a me. Che dobbiamo fare? Possiamo distruggere Lucian e liberare tua madre. Voi dite? Ma unisciti, che stai qua in questo manitomio. Vabbè, ma che ne sai? Che ti diverte. Sguardano la gente. Ma voglio farla finita. Vai, vai, andiamo, va, che te ne frego. Ma voglio venire con te. Insieme alla Cerva, a Cavallare. Sei tu, Carica. Eh sì, questo lo sapevamo. Sei sempre stato tu. Mi parlava del futuro. Cose bellissime che solo lei poteva vedere. Aspetta la squiscia. Io le parlavo del passato di una grande sacerdotessa col marchio di una farfalla. Eh, dimmi un attimo. Perché mi hai portata qui? È qui che tutto ebbe inizio. L'ha fatto tuo padre. L'ha attestato su tua madre. E lo ha fatto anche su di te. Potrò farti fare qualsiasi cosa se lo inalerai. È così che ci ha plagiato e ci ha reso sue schiame. Allora, vedi, al paparino. Aspetta che... Per riscaldare l'ambiente. Però che? Non lo sapevo. Io l'ho buttato, eh. Io l'ho buttato. Profumo di sto Kaiser. Mi piacciono coniglie. Sono i miei preferiti. Tu padre ha piantato gli oleandri in memoria di tu madre. Erano le sue peggiori. Ma c'è strani sogni. È tal rosa che cado. Le porto alla dottoressa Ballard. Facciamo il profumo. Erika, che cosa credi che lui abbia bruciato quella lampada? Cosa credi che abbia fatto a te? Sto morendo. Eeeh, senti... Per quanto ancora. Non ha importanza. So di essere un mostro. E io merito di morire. Tua madre aveva questo marchio. Ecco perché tuo padre la voleva. Ecco perché vogliono anche te. Eh, a far farla gli osserva. Che guardi nelle fiamme e veda il futuro. Senti, come... Noi che lo sai. Che ti ha detto. Sai delle sacerdote. Sede il fuoco. Che cosa credi? Lui era uno di loro. Guarda tu stessa. Il barbico. Vediamo, aspetta. Eh, però ce l'aveva chiesto quando eravamo piccoli. Che cosa vedi oltre il fuoco? Eeeh. Che vedi oltre il fuoco? Noi ne abbiamo visto un cazzo, però va bene. Tuo padre convinse Lusi che unendo la scienza e i rituali potevano vedere il futuro e controllarlo. Tua madre era il pezzo mancante. Che stai cercando di fare? Sto pulendo l'astra. Vabbè, la devo lucidare tutta, signora. Abbiamo capito. Il simbolo si vede. Grazie mille a Carmine Ferrara per la resub per il settimo mese. Grazie mille, Carmine. Grazie per questi sette mesi di sub. E buonanotte. Così. Oh, Jack. Eh, già c'ho sgamato. Non ti preoccupare, ormai già stiamo segnati. Ma scusa, non puoi farlo tu? Noi siamo un metro e mezzo. Ah, proprio una cosa professional l'hanno fatta. Eh, vabbè, dai, per forza. Questi sistemi di sicurezza avanzati. Eh, oddio, qua se ci sgamano col coltellone succede un macello, eh. Magari è pure quello che hanno usato per squartare tutti questi. Questa ci sta incastrata fino a un certo punto. Ma io sono venuto da là. Apriamo le foglie. Il medaglione. Io ne non l'aveva lasciato alla porta quella dove era uscita la signora, no? Eh, magari... se l'ha ritrovato. Vai. La trovò. E la trovò. Devono averlo sigillato. Seguimi. Così? Ma gli ha dato uno schiaffo. Eh, sì, ma... era forte, eh. Non possiamo lasciarlo via. Addirittura. Darebbe subito l'allarme. Spruzzare il profumo. No, non lo farò, no. Non lo posso. Madonna, con quale violenza. Ma mo' ci stanno le nostre impronte sul coltello, mi scusi. Ma lo so. Controllo. Guarda con quale noscialanza. Insomma, ste infermiere vengono direttamente dall'Ottocento. Che cosa... Eh, che cazzo. Dobbiamo staccare le luci. C'è il pomellone. Eh, vabbè. Portami alla porta segreta. Non abbiamo molto tempo. Altello, pistola, vai. L'accia... L'accia granata. Questa ragazza è proprio mono-espressiva, eh. Sì, vabbè un po' rincoglionita, dai. È bella stessa faccia, dai. Sì, sì, lo finiamo stasera. Ehi. Cristo, ti ho cercato dappertutto. Che è successo? Dov'eri? Eh, guarda, io l'ho avverto, ma... Sto... Devi andarti. È tanto rincoglionito quanto non può essere colpevole. Ok, senti. Non c'è nessuno. Solo io e te. Eh, è quattro coque. Ma dai, era un poliziotto un po' rincoglionito. Senti, ma l'hai ucciso. Non l'hai ucciso. È uno di loro, Erika. Ma, insomma. Sta succedendo un macello qua, eh. Era meglio il pacco con la mano a casa nostra. Non devi correre alcun rischio. Tu devi liberare tua madre. Devi fare qualunque cosa sia necessario. Che era uno di loro. Non sapeva farmi cazzo. Prendi questa. Ma si è rotta la pistola, signora. Promettimi. Si è spaccato il manico. Se ti serve. Guarda, non mi... Usala. No, non mi serve, va a posto. La rifiuta però se è piata. Non sono un assassino. Promettimi. Che c'è? È tutto a posto. Che c'è? Niente, controlliamo cose. Le luci si sono spente. Piano, ecco, queste. Aspetta che eseguisce pure... Si è appannato. Non vedo niente. Stavo già facendo sta cosa. Comunque non funzionava. E non funziona tuttora. Ah, l'abbiamo nascosto proprio alla grande. Il cadavere comunque. Eh, pure lui, guarda. Questa è stata proprio un'azione da panico. Questa è qua da fuori. Guarda, tu vai fuori. Vai fuori, vai fuori. Devi andartemi da fuori. Va più lontano che puoi. Non c'è più nessuno. Io non ho più nessuno. Non saprei dove altro andare. Eh, vai e basta. Roppa il cazzo, dai. Non puoi fidarti di nessuno. Eh. Ma devi uscire di qui perché è pericoloso. E tu cosa farai? Lascia fare, è una strage. Lascia fare, è una strage. C'è la farfalla. Evita, Green, eh. Non fermarti. Vai tranquilla. Chi era Green? Vieni la testa, passi. Non ricordi che era Green. Non fermarti per nessuno. Stai, bre, sono dei studiosi. Dai, ecco è che sto, è sicuro, amè. Non mi av zaccheri afferto, sono molto interessate. ma è possibile che stiano utilizzando tutte ste ragazze per tenere in vita la nostra madre che gli fa vedere il futuro ti stanno cercando hanno trovato un corpo ingerente io credo che tu sia malata pretendi, pretendi lascia che ti aiuti la svegli subito no, è pericoloso è la sua terapia non si può fare ci vuole tempo eh, pensa a qualcosa si, inventi qualcosa estratti i tubi inizieranno le convulsioni ma posso darle un po' di penefrina dell'arma dietro va iniettata ma vedi che sei una ringoglionina hai fatto scappare quella non dovrei essere qui ma non potevo abbandonare Toby dobbiamo svegliarla prova a tirare fuori i tubi ora prima l'epinefrina no? vedi le tubi madonna però eh, scusa che ti aspettavi le fa qualcosa l'epinefrina apri questo baracchino dai l'oleandrina l'epinefrina prendi la l'epinefrina aspetta come si fa l'epinefrina vai, tiralo 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 vai nel corasson nel corasson spacchia la camicetta addirittura un po' di violenza però eh ah non è Artù tac tac oh tappò il signor eh un fazzolettino eh niente un secchio secchio e fazzolettino facciamo la combo eh due secchi guarda puoi camminare ma c'ha dei pomelli sul collo guarda porta la via da qui io non c'ho da fare porta la via da qui ma c'ha dei pomelli ok 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 Ciao, biondo Erika Che cosa è successo? Sono io Ti prego Metti giù la pistola Tu non me la racconti giusta Qualunque sia il problema possiamo risolverlo Lo risolvo io Lo stocchiale leopardato poi Ascolta, adesso parliamone Guarda, dammi il medaglione Il medaglione, il medaglione Sì, muto Dammi il tuo medaglione Erika, ti prego Questo non ha alcun senso Ora devi calmarti Mi stai facendo paura Eh, fai bene Fai bene ad aver paura Credo che tu sia malata Hai bisogno di aiuto Poi qua fate gli esperimenti Che fate esperimenti Non è un esperimento È la loro terapia Giustamente si chiamava pure il dottor Flower Noi le aiutiamo Le facciamo stare meglio Sì, infatti Vogliono l'una dopo l'altra Voglio aiutare anche te Sei pericolosa Più pericolosa di quanto immagini State zitto State una fregata stronzata Non credo a niente di ciò che dici Non devi credere a me Sei entrata qui con una pistola E me la stai puntando addosso Meditando di uccidermi Molto bravo Per spiegare Non lo fa avvicinare Però, eh, raga Si può essere incoglionita pure tu Non credo che sia la prima volta Che ti senti così Hai bisogno di aiuto No, questi ci mettono a argabbio Mio Dio Che cosa hai fatto? Guarda Che mia madre è viva Adesso te lo dico Mia madre è ancora viva La devi smettere Con questa fantasia Devi lasciarla andare Vedo come sta Questa è felice Ci sta pure una signora con il riporto Ti prego Finiti di me E questo poi non si è fatto manco vivo Mia grin è morta Erika È nella tua testa È una fantasia Ma lascia fare È biondo Levati dalle palle Dai, non è successo niente Niente che un po' di flower Non possa risolvere E quindi Guarda là Eh, vedi come tenete Il medaglione C'è una siringa La siringa, no? Il medaglione Pericolosissimo Prendi il medaglione Prendi il medaglione Eh, però C'è quello fashion Con il rubino Non è il capo di cazzo Mica le barbonate Per aprire le porte dietro Agli armoni Vai così O magari c'era La cantina dei vini Qua dietro Ti imbala tutto il casino Qua dietro Eh, c'è profumo Attenzione signor Non respirare Che sono qua Già siamo rincoglioniti Ma se l'accendi Ci rimangiamo tutto Nel senso Ero C'è Confetto Questa Io ho 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 Je l'avORE Il vi Il vi Il vi Il vi no brucia brucia oh mi è andato fuoco a tutto è l'unica che è rimasta a testimoniare è la dottoressa che tutti gli altri abbiamo ammazzato la mamma è staccata al cazzo lancia o ti no tieni te lo vamo magari può servire sono psicopatiche vedi che trio dritti dritti al prossimo manicomio andiamo e i suoi nemici bruciano sua madre riposa in pace perso nel fumo il suo mentore scompare riascivola via nella notte e questo è quanto molto bene molto bene allora potrebbe accadere anche dell'altro come hai detto ci sono tante vie tante cose probabilmente potrebbe succedere abbiamo fatto il servizio potrebbe succedere anche dell'altro succederà anche dell'altro ma questo è quanto signori dobbiamo parlare amoci li sblocca tutti a palla calligrafia sì quando abbiamo fatto la nostra firma da producer molto bene la migliore amica di Christi molto bene eroina quella che ci si è sparata molto bene molto bene comunque prossimamente vi porto anche un altro titolo del genere dura un po' meno poi vediamo a livello contenutistico com'è no non lo riporterò onestamente ragazzi nel senso io poi vi lascio nel senso ho fatto mi voglia di vedere le altre storie no? e allora lo comprate e vedete un po' le altre storie io direi che per me può andare bene così l'avranno arrestata sta signora qua non lo so però continuo prosegue così molto bene molto bene come detto penso che ci possano essere anche altri risvolti qua Erika di certo non è che sta tanto bene in ogni caso comunque questo è quanto va bene va bene signori signori io a questo punto direi anche che ci possiamo salutare qui con questa live barra questo video perché sta vedendo il video sul canale e e quindi ci vediamo alla prossima signori ci vediamo alla prossima dai ogni tanto se troviamo qualche chicca del genere che come lascia fare è come cioè ci vediamo un film una serie insieme poi facciamo poi all'interno di drama insomma bisogna un pochino stuzzicare l'appetito e quindi e quindi costa mi sa 9 euro una cosa del genere quindi è come se vettete a comprare un film al cinema nel senso a vedere un film al cinema magari poi dipende dal film però vabbè noi noi ci vediamo con le live probabilmente domenica sera vi faccio sapere come sempre su instagram e ci vediamo ci vediamo alla prossima ragazzi dai mi raccomando non vi perdete i video usciti oggi sul canale quelli che usciranno anche domani e quelli che usciranno i prossimi giorni perché vi ricordo che arriveranno ancestors il 27 ma pochino prima potrebbe arrivare anche control quindi state sintonizzati per questo fine settimana mi raccomando dai ragazzi ci vediamo comunque domani domenica sera in live ciao buonanotte buonanotte cari ciao ciao ciao